Il 29 marzo alle 8.12, ora italiana, una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito a largo della Grecia nel Peloponneso. Secondo Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento è stato causato dalla compressione tra la placca tettonica dello Ionio e quella greca. Con un epicentro situato a circa 40 km dalla costa greca e una profondità di 33 km, l'area intorno a Pyrgos e l'isola di Zante sono state le più vicine al centro del sisma. Questo fenomeno è tipico del fronte compressivo della catena ellenica, un'area soggetta a sismi significativi che si estende dall'Albania fino a Creta. Il terremoto segue una scossa di magnitudo 4.6 registrata il 22 marzo, entrambi episodi che rientrano nella normale attività sismica della regione, senza impatti diretti sul territorio italiano, incluso la Puglia che geologicamente rappresenta una placca indipendente. Al momento non ci sono legami evidenti con una scossa di magnitudo 3.8 avvenuta in Bulgaria nella stessa mattinata. Eventi di questa magnitudo sono comuni con l'Italia che ne registra almeno uno ogni due giorni, rendendo difficile stabilire connessioni dirette tra i vari sismi.